ciao ragazzi e bentrovati su fu18 italia allora oggi come vedete intanto ho iniziato a vendere le carte if su cui avevamo investito nei giorni scorsi principalmente vela la settimana scorsa e mitrovic questa settimana ora mitrovic si vende facilmente a 15.000 crediti come vedete e per cui un guadagno netto circa di 3.000 perché acquistati tra gli 11 e mezzo e 12.000 crediti volendo si potrebbe attendere il player of the month della premier però questo significherebbe tenere delle carte ferme dove già abbiamo un profitto di 3.000 crediti tenerle ferme per almeno 10 giorni e secondo me a sto punto non vale la pena possiamo tranquillamente rivenderle guadagnare questi 3.000 crediti a carta quindi incassare 15.000 a carta e reinvestirli nuovamente abbiamo due modi per reinvestire le carte quest'oggi infatti farò due video adesso il primo è questo dedicato al player of the month il secondo sarà dedicato alla squadra della settimana agli if che stanno nella squadra la settimana attuale è che usciranno mercoledì allora perché il prossimo mese il player of the month sarà dedicato molto probabilmente ad Aubameyang due sono i giocatori anzi tre sono giocatori in lizza principalmente ancora nulla di ufficiale perché devono uscire i candidati da parte di premier league però i tre giocatori più in voga sono Aubameyang dell'arsenal barclay del chelsea e martial del manchester united il più indizzato con cinque reti un assist è sicuramente Aubameyang per cui direi di investire principalmente su di lui perché qualora uscisse la versione player of the month avrebbe un appeal veramente veramente alto perché pensiamo soltanto che la sua carta base costa 300.000 credit circa per cui inevitabile che è una carta molto utilizzata molto forte e sarebbe devastante il suo pot allora partiamo proprio da Aubameyang come vi ho consigliato sul profilo twitter scusate sul profilo instagram dedicato alla compravendita trovate il link in descrizione io mi sono acquistato una copia di Aubameyang a questi prezzi perché nell'anno passato è capitato che richiedessero la stessa carta del giocatore qualora fosse un giocatore costoso che usciva nel player of the month tra l'SBC per il completamento per cui è molto probabile che il prezzo di Aubameyang si alzi tramite hype già fino a un paio di giorni prima dell'ufficialità del giocatore del mese il giocatore del mese dovrebbe essere annunciato teoricamente il 9 di novembre infatti la scadenza della sfida di hazard è fra dieci giorni per cui tutto combacia allora chiaramente qualora decideste di fare come me cioè di comprare una carta di Aubameyang assolutamente rivenderla almeno il giorno prima dell'uscita della sfida perché tenerlo significa che qualora esca la sfida e non venga richiesta una carta di Aubameyang il suo prezzo tenderà a crollare così come è accaduto ad hazard il mese scorso andiamo avanti fra le richieste c'era una squadra totalmente premier league quindi come vedete 11 giocatori da premier due del team of the week overall 84 perciò il nostro interesse è quello di andare a comprare carte della premier league con overall alto e principalmente mi concentrerei su giocatori che hanno prezzi relativamente bassi e che abbiano un overall di a meno 85 quindi sicuramente company che ha raggiunto prezzi discretamente alti nella sfida di hazard poi possiamo concentrarci su otamendi osil sicuramente lascerei da parte i portieri e magari matic perché come vedete comunque sia richiedeva anche otto nazionalità differenti quindi possiamo anche concentrarci su nazionalità diverse un'altra sfida era quella dedicata alla nazionalità e Aubameyang è una nazionalità del gabon per cui probabilmente verranno richiesti non una squadra soltanto ma una squadra con almeno un giocatore per cui eviterei sinceramente di fare investimenti in questo lato invece al contrario ci fu la sfida dedicata a 11 giocatori del celsi overall 83 e io mi aspetto sicuramente una squadra del arsenal con overall 83 per cui io andrei ad acquistare sicuramente considerando che difensori centrali oltre a socrates abbiamo soltanto koshelny e mustafi per cui è inevitabile che uno dei due debba essere per forza utilizzato per cui mi concentrerei ad acquistare sia mustafi che koshelny perché fondamentali nella sfida inoltre andrei a comprare anche ramsey perché fra i centrocampisti centrali tolto mkitarian che è un coc abbiamo osil che però costa 21k quindi magari poco conveniente per il completamento di questa ipotetica sfida cioè quindi osil è valido come investimento per la sfida 11 giocatori premier ma non per la sfida 11 giocatori dell'arsenal chiaramente vi ricordo che queste sono sempre supposizioni perché potrebbe sempre essere che cambino la sfida cioè oggi con hazard richiedono questo domani con obama young o barclay che sia richiedono tutt'altro quindi sono sempre supposizioni e vanno fatti investimenti a rischio tornando a noi un altro un'altra carta su cui si potrà investire sicuramente la casette e anche se costa 6k di più rispetto ai classici 34 mila di 84 dell'arsenal però è probabile che venga venga sia necessario diciamo al completamento della sfida perché l'altro attaccante è obama young chiaramente mettere obama young in una sfida del genere sarebbe da pazzi per cui è inevitabile utilizzare la casette dopodiché il resto sono ovvero troppo basso per cui magari mi concentrerei sicuramente su mustafi ramsey koshelny e questi giocatori qua di cui ho parlato altre sfide che ci possono interessare non ne vedo se non chiaramente classici giocatori if o giocatori della premier generale con ovvero l'alto e quello che vi consiglio di fare è magari andare a vedere l'andamento del prezzo di una carta nel mese passato con l'uscita di azar ad esempio come vedete company ha avuto picco a 16 mila crediti con l'uscita della sfida di azar potm poi andiamo a vedere anche osil osil con l'uscita del potm di azar ha avuto vedete prima il prezzo era 16k un rialzo fino a 23 24 adesso il prezzo base sarà 20 21 per cui chiaramente si rialzerà ovviamente il discorso il solito è qual è cioè quando comprare la carta le carte di cui sto parlando conviene comprarle sicuramente questo giovedì contestualmente all'uscita dei premi della weekend league quindi come settimana scorsa ci sarà un ribasso dei prezzi giovedì sera fra le 19 e le 20 e 30 circa perché con il cambio del fuso orario vi ricordo che il i premi verranno consegnati alle ore 19 italiane non alle ore 20 per cui converrà acquistare queste carte magari le paghiamo 1000 2000 in meno non è che le paghiamo la metà però comunque sia sempre 1000 2000 crediti l'unico che andrei a comprare già adesso magari provando a sniperare qualcosa è osil che difficilmente scenderà di prezzo se non sotto i 21.000 non lo vedo proprio per cui ricapitolando gli investimenti per ipotizzando un obama young potm sono sicuramente ovvero l'85 86 della premier non spendendo più di 20 22 mila crediti per gli 86 e 10 12 13 mila crediti massimo su gli 85 mentre mi concentrerei per quanto riguarda i giocatori dell'arsenal su mustafi ramsey e koshelny perché a parer mio saranno fondamentali nel completamento della sfida e magari mkitarian la casette socrates per un discorso sia di overhaul per le varie sfide e sia per un discorso che sono fondamentali nel completamento di un'eventuale sfida che richieda 11 giocatori della premier league detto questo ragazzi abbiamo finito e adesso preparo il prossimo video mi raccomando non perdetevelo iscrivetevi al canale youtube tramite il pulsante qui in basso a destra mettete un like al video e al prossimo video grazie ragazzi e un saluto ciao